l'altissimo livello della prova di Susanna Pedotti e ora la vediamo qui in quadrata Jasmine Verbena per la società Sport Village classe 2000 la Verbena categoria senior insieme a Zunzin lei è una delle due atlete che fa parte del comitato olimpico di San Marino quindi si allenano come atleta professionista e hanno ritmi di allenamento quindi giornalieri molto intensi molto interessante questo passaggio difficile mantenuto a un buon livello di altezza molto bella l'altezza raggiunta nella posizione di verticale fluido l'abitamento angoli molto particolari della parte di gambe che abbiamo appena visto anche difficile tenere fuori asse bella veramente una bella situazione a un buon livello di altezza 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 molto belli questi cambi di ritmo che ha nelle parti di gambe e veramente molto particolari nella costruzione coreografica e nelle difficoltà inserite ecco le inquadrate Simona Chiari sulla destra Barbara Gabucci l'altro tecnico Jasmine lo scorso anno ha vinto proprio qui a Riccione i campionati dedicati agli elementi obbligati quindi è arrivata prima nella fase degli obbligatori e si è qualificata poi al quarto posto invece con l'esercizio libero rappresentando San Marino ha conquistato si è piazzata al tredicesimo posto del campionato europeo di Budapest è bello questo trust iniziale sempre molte alte le posizioni ottenute nelle verticali verticali fuori asse con tante rotazioni quindi dal punto di vista delle difficoltà una interessantissima routine infatti una routine che vale il secondo posto 85 35 35